Allora, salve a tutti, con questo video vi vorrei spiegare un concetto molto semplice ma che spesso non è così ovvio. Allora, il bullismo è un comportamento ripetuto nel tempo, quindi continuo, atto a denigrare, offendere o umiliare l'altra persona. Può essere di tipo fisico ma anche di tipo psicologico e ci può essere sia quello di persona, quindi il bullismo diretto, che quello indiretto, svolto su internet. In questo caso parliamo di cyberbullismo. Un comportamento di questo tipo è un reato, è un reato a tutti gli effetti. Un comportamento ancora peggiore del cyberbullismo e del bullismo è il cyberstalking, ovvero perseguitare una persona attraverso telefonate, messaggi, vocali, chiamate anonime e così via. E ora andiamo a vedere su internet che cosa può succedere in questi casi. Così anche i nostri cari amici haters sono avvisati. Allora, andiamo su Google e digitiamo cyberstalking, cyberstalking. Intanto leggiamo che cos'è il cyberstalking. Allora, detti anche atti perseguitori, ora non posso... Un attimo... Eh, scusate ma mi chiamavano. Allora, il cyberstalking è l'uso di internet o di altri mezzi elettronici per molestare e intimidare una vittima prescelta, ovvero monitorare le attività online di una persona e nel mondo reale. Ora voglio vedere però una cosa. Come proteggerci lo sappiamo. Ecco, eccolo qua. Allora, secondo l'articolo 612 bis introdotto nel 25 aprile 2019, il cyberstalking ha una pena, può essere denunciato, può essere denunciato praticamente e la pena è dai 6 mesi fino anche ai 5 anni su querela della vittima. Quindi, se state subendo degli atti di bullismo o, peggio ancora, di cyberstalking, potete denunciare questa persona. E quello a cui andrà incontro vi recate alla polizia postale. Loro vi diranno tutte le indicazioni su come fare a denunciare questa persona. vi daranno anche alcuni consigli per proteggervi. Con la vostra denuncia in mano, voi siete tutelati. E per gli haters che si divertono in questo modo, purtroppo ce ne sono tanti in Italia, ma anche nel mondo, ricordatevi che questo è un reato. Allora, un haters si potrebbe difendere dicendo cose tipo Eh, ma io scherzavo, eh, però ero in un momento difficile. Non importa se assume le proprie responsabilità sapendo che il comportamento che si sta mettendo in atto è un reato a tutti gli effetti. Quindi, punibile per legge. In altre parole, prima di fare cazzate, pensateci due volte. Io penso con questo video di aver detto tutto. Scusatemi, è andato via lo smalto, ma poi lo rimetterò. Niente, fatemi sapere se questo video vi sembra utile. E io vi abbraccio forte e vi mando un grande bacio contro tutte le ingiustizie e tutte le persone che molestano. Ciao!